E noi siamo pronti! Siamo pronti per Sanni J! DJ Sanni J sul tetto del mondo, reduce del grande successo di Magica Music Party 2024 che si è svolto lo scorso agosto a Nizza di Sicilia, dove il talento biancavillese ha fatto ballare più di 5.000 persone dal vivo e qua arrivare per lui un'altra grande soddisfazione. Fiesta Reggaeton, un pezzo di Sanni J realizzato negli anni passati, sta diventando virale in Argentina, l'unico disco italiano. Sono infatti più di 400.000 video caricati in meno di un mese su TikTok utilizzando la sua musica. Sanni J è produttore e DJ ormai di fama internazionale, super programmato dalle radio anche nazionali come ad esempio Radio 105 Network e autore di tantissime hit mondiali, fra cui come detto Fiesta Reggaeton, disco utilizzato anche come sigla nel programma Ballando con le Stelle 2014 nella versione argentina. Musica Maestero, vamo! Musica Maestero, vamo! E proprio Fiesta Reggaeton è la musica utilizzata per lo spot del marchio Prema, la nota birra brasiliana che più volte è apparsa nel famosissimo film Fast and Furious 5, ad esempio. Che pasa se a este raton le cambiamos il video a sábado? Musica Maestero, muove la cintura mamacita, come va? Mira tutti i nichi che ti dicono che vola, esa mini patta che mi va a matar. Esatto, la villa non espera il sábado, vos tampoco lo hagas. Mira tutti i nichi che ti dicono che vola, che vola! La vita retornable, una cerveza per i 7 sábados della settimana. Musica Maestero, vamo! Musica Maestero, vamo! Musica Maestero, vamo! Musica Maestero, che era candidato. Insomma, ancora grandi soddisfazioni per il dj biancabilese, che nonostante il pezzo Fiesta Reggaeton, come detto, sia stato realizzato negli anni passati, spopolando nelle alte classifiche, a distanza di tempo, continua ad essere al top. E a testimoniarlo sono, come detto, i tantissimi video caricati su TikTok, oltre 400.000 in meno di un mese, che stanno girando in Argentina, realizzati soprattutto da ragazzi che creano così i loro trend. Stessa cosa sta accadendo anche in Cina e siamo sicuri che DJ Sunny J continuerà a stupire e a coinvolgere tutti con i suoi ritmi musicali apprezzati a livello nazionale e internazionale. Grazie per la visione!